Una serata speciale targata Sky TG24 e dedicata ai temi caldi del momento, mentre ricorre il terzo anniversario del devastante terremoto che ha distrutto l'Aquila. Un viaggio tra chi cerca di mettere a riparo il proprio patrimonio e chi ha perso tutto ma non la voglia di ricominciare. Cielo presenta Speciale Sky TG24, dall'Aquila alla Svizzera, giovedì 5 dalle 21 su Cielo.